Da oltre dieci mesi sono in corso controlli in regime di autotutela secondo i protocolli previsti dalle migliori tecniche disponibili. Così AISA Impianti che gestisce l'impianto di smaltimento rifiuti di San Zeno in un lungo comunicato stampa di risposta alle proteste dei cittadini che risiedono in alcune frazioni del comune di Arezzo e lamentano da oltre un anno odori molesti, soprattutto d'estate. Sì, sta riprendendo il problema in maniera piuttosto violenta. Queste notti tra le 3 e le 4 siamo state svegliate dall'odore perché ovviamente è arrivato il caldo, si dorme a finestra aperta e l'odore ti sveglia. Come già detto, prosegue la nota, verranno ulteriormente potenziati i biofiltri per investimenti complessivi di circa 1,2 milioni di euro. Sono state verificate le segnalazioni e sono emerse numerose incongruenze per la tipologia di odore riscontrato, per il luogo a chilometri di distanza e per i venti che spesso soffiavano in direzioni opposte. Possiamo serenamente affermare, prosegue la nota, che l'insieme delle segnalazioni e dei riscontri è a dir poco caotico e paiono più che altro una sorta di catena di Sant'Antonio di carattere multimediale. AISA prosegue e ipotizza che il problema possa avere altre cause rispetto all'impianto di Sanzeno, ovvero l'abitudine di alcuni scellerati di bruciare anche di sera e nora tarda sfalci, potature o addirittura plastica. Poi parla chiaramente di minacce. Tutti i dipendenti, si legge, sono da tempo continuo bersaglio di offese e minacce spesso associate a immagini violente con armi, arti marziali e animali aggressivi. Per difendere l'incolumità dei nostri dipendenti abbiamo dovuto istituire un costoso servizio di vigilanza. Un continuo stalking, dice AISA, che va avanti da mesi. Da ultimo chiude la nota. Si ricorda che l'impianto è presente dal 1999, quindi prima di molte realtà abitative e industriali insediatosi successivamente.